Non sul piano sportivo, sul piano umano. Io mi sono sentito tradito nel mio sentimento più puro nei confronti di Roberto, che è quello del... ho sempre considerato un amico, ho sempre manifestato un sentimento di amicizia. Quindi, al di là dell'aspetto degli interessi, del rispetto, della sua scelta tecnica o sportiva, per me è stata una ferita che devo ammettere, devo riconoscere, faccio fatica a rimuovere. Il mondo del calcio oggi è ritenuto colpevole, non so di che cosa, ho tenuto conto che per la legge italiana le scommesse sono lecite, a tutti gli esi può scommettere, però noi puniamo, la giustizia italiana questo non lo permette. E così via, ne potrei citare tanti di esempi di questo genere. Certo, una condivisione di un percorso tra la parte politica, di governo del nostro paese, il mondo dello sport, il mondo del calcio, insieme potrebbero, a mio avviso, dialogare e trovare le soluzioni migliori. In un momento di grande espansione del fenomeno della globalizzazione, è chiaro che gli interessi economici predominano, e questo vale anche per il mondo del calcio. Lo stiamo vivendo negli ultimi tempi in maniera esponenziale. L'abbiamo vissuto noi come federazione italiana gioco calcio, rifiutando nettamente una proposta di organizzazione insieme all'Arabia Saudita nel campionato del mondo 2030. L'abbiamo fatto convinti, pur sapendo, coscienti, della grande possibilità di successo di quel abbinamento insieme all'Egitto, quindi Egitto, Arabia Saudita, Italia. Abbiamo detto di no per tante ragioni. Le ragioni possono essere sì legate al rischio, voglio dire, di non condivisione di alcuni aspetti legati appunto al mondo dei valori, ma l'abbiamo fatto anche perché ritenevamo in quel momento, per ragioni di problemi internazionali, legato al caso Reggeni o altre situazioni di dialogo con gli egiziani. Non si può far finta di nulla sempre, no? Non si può appunto far finta di nulla.